Benvenute amiche e amiche del nuovo canale Merazzurre e non L'Inter viene dall'ultima partita Vinta con la Samp per 2-0 A Genova, Rettigli Snyder a 73, non so A 73, al 93 Scusate, la partita non è giocata benissimo dei nostri ragazzi Però c'è la posizione Allora Andiamo appunto a vedere come stanno i nostri eroi Il Moratti che dice Il campionato diventa interessante Andiamo a vedere La partita di ieri fra Milano e Napoli Ricordiamo vinta dal Milan per 3-0 Ha consegnato all'Inter il secondo posto in classifica Ma il presidente nella giro Massimo Moratti Non crede che si deciderà tutto nel verbi Ha ragione Questo è stato detto oggi Appunto l'ho letto anche prima Diciamo che Moratti secondo me ha ragione Perché Napoli non è proprio spacciata Però adesso ha meno possibilità di vincere Il campionato che secondo me Non vincerà Però poi magari ce l'ha per fare Allora Allora Qua ho cercato prima Non c'è scritto Ma Siago morta è sulla via del ritorno Un problema al gluteo Mentre Milito è ancora infortunato Non so se ci sarà con il match di ritorno Quello che è il Bayern Partita col Bayern Che dobbiamo rimontare Perché abbiamo perso una giro in casa Cosa facciamo stagione E vediamo La classifica Che ci interessa Allora abbiamo Milan 58 L'Inter a 53 Quindi Milano più 5 Napoli 52 Lazio 48 Udinese Stralipante 27 0 47 Roma 43 La povera Juve 41 40 Cagliari Un buon Cagliari 38 Un buon Bologno 38 Deludenti Genoa Fiorentina Ristrettivamente 35 34 Tivo 31 Samp Deludenti Antelei 31 Catania 29 Parma 28 Lecce 28 Cesena 25 Brescia 24 E Bari Fanalino di coda Ormai a mio avviso spacciato A 16 punti Ehm Qua Invece Andiamo A vedere i prossimi Incontri I prossimi impegni Domenica 6 Marzo 2011 15 Inter Genoa 11 Marzo 20 45 Brescia Inter 15 Marzo 20 45 Bayer Monaco Domenica 20 Marzo Inter Lecce Qua Vediamo Invece Facciamo Sponsor Dell'Inter Facciamo Pagelle Allora Vediamo Vediamo Guardiamo Qua possiamo anche inviare i voti Volendo Qua invece ci sono tutti i momenti salienti delle partite Partendo benvenuti allo stadio Luigi Ferrari Voi vedete Non ci sono tutti i momenti salienti del secondo tempo Ehm Cos'è Ecco Interessante Questa iniziativa Che fa l'Inter No niente Non si smuove Vabbè Possiamo anche farla meno Vediamo Se ci fa Cos'altro Sì Va bene Ciao Ancora Nella Onno Vediamo Se ci sono Altre Notizie No Qua Parlano Solo Di Inter Club Mi ha Deluso Un po' Questo Canale Questa Una Fluidità Piano Gentile 12 12 gradi Milano 8 gradi Quindi Fa Più caldo Lo piano Meglio Meglio Che si allenano Bene Guardiamo Dare anche Un po' Di foto Per In questa foto La funzione Magica Di Snyder Questa Qui Adesso Sono Proprio Foto Ufficiale Qui Qua Abbiamo Un'altra Foto Di Snyder Quando Segna Questa Non si può Vedere Snyder Quando Esulta E To Quando Tira Grande Re Leone E To Quando Esulta Bene Dai Io Spero Proprio Che torni Di Romano Si Ha Parlato Di Guido Lipe Ha Detto Che non Sa Se Ritorna Con la Partita Del Bayern Ma Vuole Tornare Calmo Evitare Altre Ricadute Diciamo La Classifica La Biangeletta Biglietti Vabbè Non Penso Andiamo A Vedere Un po' Le Quotazioni Delle Quartite Quote Quote Smile Un Pige Smile Vediamo Come è data La Vittoria Dell'Inter In Inter Genoa Ovviamente Calcio Serie A E Ora Scegliamo La Partita Che Sarà Inter Milan Forse calcio Il giorno Viet Faccio Stimulare L'incontro Del Dal 6 Ecco Inter Genoa Allora 1 La Vittoria Dell'Inter È data 1 32 Quindi Spontato X Pareggio 4 75 2 9 Quindi Vabbè Mentre La Vittoria Del Milan Con la Juve Questo Big Match Vediamo Se lo Da Penso Di Sì Perché Danno Anche Le Sarà Sabato Quindi L'incontri Del Non Del 7 Scusate Del 5 Lo Che Sarà Di Sabato Il Milan Ricordiamo 20 45 Non Perdetevi Milan Juventus Che Sicuramente È Una Bella Partita Niente Non Si Trova Niente Non Si Trova Va Bene Niente Iscrivetevi A questo Canale Che È Stato Ideato Appunto Da Me Da Giova 99 Votate Commentate Iscrivetevi Ciao Ragazzi Alla Prossima Con Le Breaking News Subito Dopo In Per Genoa Ciao Ragazzi